Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi sveleremo delle anticipazioni davvero sorprendenti riguardanti le prossime puntate di Terramara dove vedremo in azione Fikret. Questo personaggio avrà un ruolo fondamentale nella sopopera. Trovandosi costantemente in conflitto con Demir e mettendo in atto ogni possibile stratagemma per screditare suo padre, Adnan, Fikret pianificherà una serie di azioni per distruggere Demir. Inizierà minacciando anonimamente il figlio Demir, e quando Beis lascerà questo mondo, Fikret accompagnerà Mugeigan a Istanbul e, al suo ritorno a Kukurova, si recherà nella fabbrica di latte dell'azienda di Demir. Lì, aprirà completamente i rubinetti provocando gravi danni alla produzione. Tuttavia, al momento di lasciare la fabbrica, Fikret dovrà affrontare suo zio Fekeli, che sarà molto arrabbiato e gli chiederà spiegazioni riguardo ai suoi comportamenti nei confronti della famiglia Yaman. Il momento della verità si avvicina, e Fekeli, furioso, chiederà a Fikret il motivo del suo odio verso Demir. In questa situazione, Fikret farà una rivelazione scioccante. Adnan Yaman era suo padre biologico. Questa sconvolgente rivelazione lascerà Fekeli turbato e lo spingerà a raccontare a suo zio della difficile infanzia vissuta con la madre abbandonata da Adnan. La rabbia di Fikret per l'abbandono paterno lo ha portato a provare disprezzo per Demir. Nonostante tutto, Fekeli cercherà di comprendere Fikret e gli farà capire che non è giusto far pagare a Demir gli errori del padre. Nel frattempo, Demir chiederà aiuto a Fekeli per scoprire chi lo sta ricattando in modo anonimo, ma Fekeli si sentirà costretto a mentire per proteggere suo nipote, Fikret. E così si concludono le anticipazioni. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel, mi piace, e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime anticipazioni di Terra Amara. Ciao! Grazie a tutti!